La pandemia ha rovinato gli italiani. Il paese vive una profonda crisi economica e finanziaria. Pare sia arrivata una bellissima notizia. È stato infatti annunciato un super bonus da 2000 euro. Nel Lazio arriva il bonus sposi per aiutare le coppie che convolano a nozze. Questo grazie al bonus sposi Lazio 2022-2023 pari a un massimo di 2000 euro a coppia. L'intervento, deliberato dalla Giunta regionale del Lazio, mira a sostenere il settore wedding. Questo infatti è stato molto penalizzato a causa della pandemia da Covid-19. Il bonus sposi Lazio è dedicato alle coppie che contraggono matrimonio o unione civile nel Lazio dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022. È concesso per un importo massimo di 2000 euro per ogni coppia. Il contributo è concesso non oltre il 31 gennaio 2023. In caso le spese documentate fossero inferiori a 2000 euro, il contributo è pari all'importo delle spese sostenute. In tutti i casi, anche se le spese documentate e ammissibili sono superiori a 2000 euro, il contributo massimo resta di 2000 euro. Le spese ammissibili per ottenere il rimborso per il bonus sposi Lazio 2022-2023 devono essere pertinenti dall'evento del matrimonio o unione civile. La Giunta cita tra le spese ammesse, anche l'acquisto degli abiti e il viaggio di nozze, che non deve superare le 700 euro. Non sono ammessi acquisti online, le spese devono essere effettuate nel territorio della regione Lazio. L'erogazione del bonus sposi Lazio è subordinata alla presentazione di documenti comprovanti l'avvenuta celebrazione del matrimonio o dell'unione civile. Ogni coppia può chiedere il rimborso di massimo 5 documenti di spesa. Il limite economico complessivo del contributo stanziato dalla regione Lazio è pari a 10 milioni di euro, ma saranno accolte domande in overbooking, fino a un totale pari a 1,5 volte la dotazione dell'intervento. Una volta presentata la domanda, secondo i criteri del bando in via di pubblicazione, sul sito Lazio Crea Spa si potrà ottenere l'aiuto, fino a esaurimento dei fondi. A differenza del bonus matrimonio istituito a livello nazionale per le aziende del settore, questo aiuto invece riguarda proprio le coppie e le spese che sostengono per organizzare le proprie nozze. Il governatore Nicola Zingaretti ha annunciato che il bando è pensato e voluto per sostenere un settore che ha sofferto in modo particolare la crisi economica. Un nuovo e importante investimento che abbiamo messo in campo con un occhio rivolto anche al comparto turistico. Ciò nella consapevolezza e con l'orgoglio di poter vantare in ogni parte della nostra regione. Tantissime location tra le più magiche e affascinanti al mondo, grazie a un patrimonio artistico e culturale ineguagliabile. La domanda, completa di tutti i dati richiesti, deve essere predisposta e presentata solo attraverso lo sportello telematico. Disponibile al sito della Regione Lazio a partire dal 28 febbraio 2022 alle ore 10. Eventuali problemi in fase di caricamento dati possono essere sottoposti a Lazio Crea Spa tramite l'indirizzo e-mail dedicato. È opportuno inserire anche un recapito telefonico. Cosa ne pensate di questa iniziativa? Usufruirete di questo bonus? A voi i commenti! Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti! Grazie! 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 Grazie!